Questa è una ricerca di D.A.Y. Arduino Airsoft Bomb. Arduino è una plataforma di prototipo elettronica, che permette di creare obiettivi elettronici interattivi. Abbiamo costruito questo D.A.Y. Arduino Airsoft Bomb in un caffè di alluminio. Abbiamo optato per il design minimo e l'interfaccia in comprensione. Con una traccia di traccia, l'unità si avvicina. Prima c'è il sistema di tempo. Poi la configurazione di disarmi. In configurazione di codi. Per questo test, abbiamo impostato un countdown di 10 secondi. Se non inserisci il codice corretto alla fine del countdown, la bomba esplodirà. Aggiungendo l'interfaccia di asterisk. Aggiungendo il codice corretto, la bomba esplodirà. Aggiungendo il codice corretto, la bomba esplodirà. diversi tipi di batterie. Aggiungendo la bomba esplodirà. La bomba esplodirà. Il codice corretto ha un porto di carrivo. Il codice corretto all'interfaccia di allungo. Il codice corretto è portabile da tutti i casi. i casi. Spero che vi piacerebbe questo rischio. Non dimenticate di like, commentare e subscribe. Per più contenuti, clicca sui link interattivi. I'll see you next time and stay safe out there.